Una tematica delicata quanto pressante, quella del consumo del suolo, che mette uno di fronte all'altra la cosiddetta cementificazione a favore dello sviluppo economico-industriale e la sostenibilità ambientale, spesso compromessa nei suoi equilibri che si traducono non solo in un cambiamento visivo del suolo che si perde, ma dei relativi ecosistemi. L'Italia intera è interessata da questo fenomeno che non conosce battute d'arresto. Secondo quanto riportato dal rapporto del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, nel 2022 le coperture artificiali sono arrivate ad estendersi per oltre 21.500 km2, il 7,14% del suolo italiano. E poi in particolare la pianura padana ad essere stata toccata nel 2022 da queste modifiche, con un 13% del consumo di suolo totale che ricade nelle aree a pericolosità idraulica media, dove l'11% del territorio è ormai impermeabilizzato. E ancora, il consumo di suolo totale dell'ultimo anno, più del 35%, equivale a più di 2.500 ettari, si trova poi in aree a pericolosità sismica alta o molto alta. Infine il 7,5% è in aree a pericolosità da frana. Sfogliando inoltre i numeri relativi al Piemonte sul sito dell'ARPA, si constata come fra il 2021 e il 2022 si siano consumati altri 617 ettari netti di suolo, per un totale occupato da superfici artificiali di 170.199 ettari. Un consumo, quello piemontese, connesso anche all'adeguamento della rete di trasporti, con importanti opere che toccano sia al sud, l'autostrada Asti Cuneo a 33, il terzo valico, sia al nord la tangenziale di Novara. E poi ci sono opere di piccola o media estensione, che interessano un po' ovunque i piccoli centri urbani, i territori collinari e gli assi vallivi montani. In termini assoluti, il valore 2022 proietta il Piemonte al quinto posto a livello nazionale, dopo Lombardia, Veneto, Puglia, Emilia-Romagna. In termini di aumento di percentuale rispetto alla superficie artificiale dell'anno precedente, col valore dello 0,36%, il Piemonte si attesta al primo posto in Nord Italia, sopra la media nazionale pari allo 0,33%.